La mattina del 24 novembre 2021, Ninja Hyper alle 7 del mattino si svegliò per andare a scuola. Alla fine della scuola, ovvero alle 14 di pomeriggio, entrò su Boastars felicissimo per la Lega dei Club, ma poi entrò e ha visto che in realtà non era ancora iniziata. Ma poi il giorno prima si aveva visto che la Lega dei Club non iniziava alle 10 o alle 9 come l'uscita del negozio, ma alle 3. Alle 3 allora Ninja Hyper entrò su Boastars, ma ancora non c'era la Lega dei Club. Ma poi Ninja Hyper ha aspettato ancora un po'. Ed ecco qui la Lega dei Club finalmente uscita! Ciao ragazzi, sono Ninja Hyper e ora siamo con un nuovo evento, un evento che stavano aspettando tutti, la Lega dei Club. Cioè ragazzi, guardate, già abbiamo fatto alcune partite, in realtà io no, credo solo Thomas, che anche lui è un youtuber, andatelo a seguire. E questo è il negozio di Club, ma mi stavo chiedendo, ma com'è che sei cagallo che costa 90 e 200, 500 monete? Anche perché negli sneak peek si è visto che costavano 2.500 le skin, ma è stranissima questa cosa. Comunque questi sono i giorni, mercoledì, venerdì e domenica sono i giorni importanti. Che è sta roba? Ah, non sapevo stessa cosa. E vabbè, ora siamo messi così, sono usciti i biglietti d'oro, che per prendersi i biglietti d'oro, all'inizio non l'avevo capito, ma ho visto che poi in alto c'era questo. Che ti puoi prendere le cose, dico i biglietti d'oro. E poi, vabbè, ormai queste cose si sanno. Power League è un evento che con due biglietti ti fai la partita, con la raffagemme un biglietto. E niente, direi però di fare un primo alla raffagemme. E niente, giochiamo, giochiamo subitissimo. Allora, c'è una cosa buona su questo evento, che se tu perdi la partita ti danno comunque i punti. Perché, ovviamente, se te li toglievano, era ingiocabile. Se te davano zero, c'era comunque gente che si lamentava perché uno giustamente dice Ma come, io spendi i biglietti, datemi almeno qualcosa. E credo che la Supercell aveva già capito che la gente farebbe stata così. Attenzione perché abbiamo la fortuna che c'è una Jesse-Off nemica. Però, mai dire mai nella raffagemme, che potrebbe anche succedere che ci killano. E se ci killano, nella fine, se abbiamo dieci gemme. Ovviamente io con la skin di Retropoli, che l'ho vinta nella sfida. Credo che sia la skin più bella di 8-bit, direi di no, perché c'è la malvare. Quella di Attenzione lo sapevo che era qui comunque. Mamma mia, allora, devo ricordarmi col gadget perché non me lo ricordo mai. No, in realtà sto scherzando, ma a volte, quando lo devo usare, non lo uso. Mettiamo la torretta, la mettiamo qua al centro. Ok, dai, dov'è? Ecco qua, ragazzi, no, 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 mi sa già win. Mi sa già win. Attivazioni del gadget. Mamma mia, ragazzi. Oh, ragazzi. La prima partita della Lega, no, no, la Lega dei Club, stavo a perdere Lega delle Stelle. Siamo tornati indietro. È vinta. Mamma mia, ragazzi, ora io voglio vedere la schermata. Ah, più 4. Ma che nabbi! Una pam di 120. Ma tutti nabbi, tranne io e Thomas. È bellissima questa schermata. Wow! Vediamo l'animazione. Ovviamente anche i soggettoni. Vediamo qua. No, non è successo niente. Vabbè. Ah, ma qui ho visto che c'è uno. Beh, una cosa. Allora, ma è assurda questa cosa. Ma io, ragazzi, glielo scrivo a Thomas. Il matchmaking è fassullo. Guarda le coppie di Pamma e degli avversari. Ve le faccio vedere anche a voi, ragazzi. Allora, qui c'è un trofeo. Ma credo che sia una cosa del club. Perché non hanno veramente un trofeo. Ma poi, l'avete visto le coppe? Cioè, noi siamo dei 20-30k. E loro ci mettono questi. Ma è assurdo. Comunque, non è tesissimo. Me l'hanno date. E vabbè, il video finisce qui. Ditemi se anche voi avete un matchmaking così, un bug, cosa ne pensate. E vabbè, al prossimo video. Ciao!